Ok, nuova parte di Ratchet & Clank e ora andiamo sulla miraglia di Drek a fermarlo prima che usi il suo laser, anzi il suo deplanetizzatore, per distruggere Veldin, il pianeta natale di Ratchet. Quindi pronti, basto, via! Flotta di Drek? Ok. Dunque. Trova le coordinate laser, ok. Qualcosa mi dice che devo usare un altro vestimento. Ma dai! Ma c'è un sesto senso della madonna! Questa è un sesto senso di Ratchet & Clank. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso lo aspetto qui, gli faccio il sorpresone. Cucù! Cucù! Buoni cagnacci del piffero! Scoprire! Zitti! No, ho premuto il fursante! Sono morto, sono morto, sono morto! Sono sopravvissuto! Sono vivo, sono morto! No, ti prego! No! No, ce l'avevo fatta! Ma dai, no! No! Ah, dai, da capo! Naccia! No, tu non lo aspetto! No, non lo aspetto! No, non lo aspetto! No, non lo aspetto! Grazie a tutti. 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 E' un termine tecnico. Depressurizzazione. Eeeh, stiraggi laser come li supero, eh? Eh no, infatti il gioco non mi fa andare avanti, non posso superarlo. Ah, devo andare di qua. Grazie gioco. No, 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 no. Ah, no. Grazie a tutti. 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 Ti avverto, ti avverto, quello che fai... Stanotte su BlargTV assisteremo all'evento più atteso, l'ammientamento di un intero pianeta. Assisti alla potenza, assisti alla potenza, alla distruzione e a nulla che segue. Non perdere il supremo presidente esecutivo Drake che preme un tasto e mette così fine a un mondo per crearne un altro. E ora le papere più divertente. E ora le papere più divertenti dei supereroi della galassia con il nostro capitano Quark. Io che pensavo che fosse la televisione italiana a fare programmi di merda, ma anche quella di recita in clan che non scherza. E insomma, dai! E' un po' da... E' un po' da stronzi, sai? E' un po' da stronzi. E' un po' da stronzi. Oh, madonna! Vai, Ratchet! Se no qua, prendiamo la scossa! Scossa? Schivo! Ecco! Posso farlo! Ho appena detto, va che li schivo e tac! E adesso comincio a beccarli tutti! E' certo! E' certo! Perché mi sono rimasti 29 secondi e se non mi muovo qui faccio la fine del pollo arrosto! Anzi, per essere più precisi, faccio la fine di team di giurarsi in palco! Capite, no? La scossa! 13 secondi! 10 secondi! Vai! 1, 7, 6! Uuuuh! Ecco, un codice bot! Ecco, questo ragazzi non ho mai capito a cosa serva. Qualcuno lo sa? Io no, non lo fa! Che serve? Eeeh! ok ragazzi ci vediamo alla prossima parte con l'assalto sul pianeta Veldin ciao a tutti a presto